Samuel Stern numero 24, Duncan, la battaglia per l'apocalisse si combatte nell'anima di un singolo uomo. Wobalaba dub dub, bentornati su un nome ammazzo, bentornati nella rubrica Samuel Stern. Lo so che oggi esce il secondo appuntamento con i racconti del Darylang, ma io sono in estremo ritardo questo mese, complice anche Luca Comics. E quindi parlo solo oggi di Samuel Stern numero 24, dal titolo Duncan, dalla doppia copertina con i colori invertiti, quindi dove qua prevale il rosso attorno al volto di Samuel, c'è un logo azzurro, oserei dire quasi indaco. Chi è esperto di colori me lo dirà qua sotto nei commenti. E anche la costina è diversa, mentre c'è la cover con Duncan, che ha mezza faccia appunto su tutti i toni di blu e con i colori classici di Samuel Stern. Questa volta non ho preso entrambe le cover, ho fatto una scelta ponderata e ho scelto la cover, diciamo, con i colori invertiti, in modo che nella costina si veda appunto la differenza rispetto alle altre costine, in modo che sancisca un attimino la fine del secondo anno editoriale di Samuel Stern. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che hanno un amico posseduto e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero, questo doppio numero 23 e 24 e questo secondo anno di vita di Samuel Stern. Vi sta piacendo? Pensavate di trovare altro in questa, diciamo, conclusione del secondo anno? Vi aspettavate di più? Vi aspettavate qualcos'altro? O siete stati molto molto soddisfatti? Scrivetemelo qua sotto nei commenti e iscrivetevi anche agli altri miei social che trovate qua sotto in descrizione. Grazie! Samuel Stern numero 24, il primo numero di Samuel Stern di cui parlo dopo che ho conosciuto di persona finalmente Gianmarco Fumasoli che era presente a Lucca Comics, al Padiglione Napoleone. Sono stato molto felice di vederlo, lo ringrazio anche per, diciamo, per la foto che abbiamo fatto assieme con io, il mio amico cosplayer di Samuel Stern e lui che spero di mostrarvi al più presto. Sono stato proprio felice di essere stato a quel padiglione. Bene, un po' diciamo che la mia Lucca, che è stata solo di un giorno, è girata molto attorno a Samuel Stern quest'anno, quindi sono molto contento di questo viaggio da lettore che sto intraprendendo con Samuel Stern, mi piace molto. Dicevo, allora, questa storia è un indoppia con il numero 23, perché ho citato Lucca Comics? Perché a Lucca Comics, non so se anche sul sito Bugs, che eventualmente vi metto qua sotto, c'è anche un numero che contiene entrambe le storie in un unico formato, dal titolo Abisco. Abisco è il luogo dove si sta svolgendo la battaglia, dove si trova Samuel, Samuel Stern. Che io appunto non ho preso perché ho voluto continuare la serie regolare con il formato Bonelli de Classico, diciamo. Ero tentato di prendere Abisco, ma avevo già preso il numero 23, e quindi ho preso direttamente il 24 appunto con la costina alternativa. Come ho detto il mese scorso, già il numero scorso io l'avrei chiamato semplicemente Duncan, perché già nel numero scorso si esplorava, diciamo, un viaggio verso l'oblio, verso il buio, nella coscienza di padre Duncan. Qua chiaramente viene un attimino esplorata, c'è una sorta di esplorazione risalita di questo viaggio. Però ecco, entrambi i numeri io li avrei chiamati Duncan, proprio perché appunto questo è il numero dei due che si chiama Duncan, è normale che ci sia come protagonista appunto il nostro vecchio prete irlandese. Ma non dimentichiamo che è stata lasciata in sospeso una battaglia, una battaglia importante dove niente po' po' di meno che un, chiamiamolo, un varco temporale, un portale, un buco dell'ozono mistico, non so come definirlo, era aperto nel Sud America e stava per spuntare un Eresiarca. Un Eresiarca, vi ricordo che in questo contesto narrativo, è un demone che è stato spedito, correggetemi se sbaglio, è un demone che è stato spedito all'inferno dei demoni, dal nome Legione, molto, molto, molto tempo fa, e ha avuto moltissimi anni, millenni, per crescere e diventare potente al punto di ritornare sulla Terra attraverso le coscienze o attraverso appunto i portali, grazie a questo potere. Eravamo rimasti che Samuel Stern era rimasto, non ricordo se assorbito da questo portale, o comunque sembrava quasi che fosse stecchito a tutti gli effetti, sembrava quasi che ci avesse lasciato le penne. Il numero si apre proprio con un fantastico primo piano di Samuel, tra l'altro approfitto per dire anche di chi sono i disegni, di Lamberti, si apre con questo fantastico primo piano di un Samuel Stern astordito in una battaglia dove quello che posso percepire con questi toni in bianco e nero è come se ci fosse del pulviscolo nell'aria, come se ci fosse stata un'esplosione e questa sporcatura delle tavole fosse del pulviscolo, dove il sensitivo, il ruolo del sensitivo in questa squadra, in questa task force che hanno formato nel numero scorso, ha il ruolo principale di spiegarci un po' le cose, spiegare quello che sta succedendo, perché ricordiamo che se Samuel Stern è il catalizzatore, l'unico che riesce a, diciamo, poter chiudere questo portale, è pur vero che Samuel Stern non è un sensitivo, quindi Samuel Stern è come noi, è l'uomo che non ha idea di quello che sta succedendo, e qui c'è la figura appunto di questo sensitivo che ci spiega tutto il possibile. Vediamo che la battaglia comunque continua a impazzare, ci sono demoni ovunque che sono usciti da questo portale e finalmente, come nel Signore degli Anelli arrivano gli elfi, tra l'altro sono nel film, quindi vabbè, nel Signore degli Anelli arrivano gli elfi ad aiutare, anche qua finalmente arrivano gli angeli ad aiutare. Ecco, forse una cosa a mente fredda che mi ha, deluso è una parola grossa, mi aspettavo di vedere più approfondita e conclusa, in un certo senso, è il ruolo degli angeli e la loro presenza in questa battaglia. Invece fanno semplicemente, neanche da Deus Ex Machina, semplicemente arrivano, danno un aiuto, perché sì, ma potevano tranquillamente non esserci. E questo un po' mi dispiace, perché io pensavo che questo secondo anno, questo secondo arco narrativo di conseguenza, avrebbe chiuso anche la trama degli angeli. Invece, quantomeno in questo numero, semplicemente si è conclusa la trama di questo grosso portale, si è un po' sancita la collaborazione tra Samuel e l'agenzia Singularity, e quindi il personaggio di Gillian, e si è esplorata, come dice il titolo stesso, l'anima di padre Duncan. Però, ecco, non mi aspettavo forse un macroevento più macro, che però magari lo vedremo anche nei prossimi numeri, questo non è detto, o comunque potrebbe essere la conclusione dell'arco narrativo del terzo anno di vita di Samuel Stern. Perché no? Semplicemente, ecco, pensavo ci fosse già questa conclusione, ma non sono nuovo a queste piccole delusioni, già Samuel Stern mi aveva dato l'idea in passato di archi narrativi che si potessero concludere alla grande, invece ci davano solo un po' di bricioline per poi farcele gustare più avanti, e devo dire che poi quando le ho gustate mi sono piaciute anche di più, quindi per carità, può andare benissimo così. Questa storia è ricca di tavole, splash page fantastiche, che non si possono scendere dalla bellezza della narrazione, appunto uno è il primo piano che vi ho mostrato prima, e il secondo è una prima splash page con quello che sta succedendo appunto a Ibisco, e la terza è una rappresentazione di legione. Queste sono le classiche, i classici disegni in bianco e nero talmente belli che mi sembra di vedere i colori, non so se riesco a dare l'idea a parole di quello che voglio intendere, sono davvero spettacolari. Io con queste tavole fatte in questo modo, così giovani, così taglienti, così nette, così che escono fuori dagli schemi, io vi leggerei qualunque cosa, vi leggerei l'elenco del telefono in queste tavole. Ovviamente non è il caso di Samuel Stern, perché anche la narrazione è molto bella, ma vi leggerei qualunque cosa con questo taglio di disegno. Chi ha orecchio per intendere di qualche concorrenza, intenda gli altri nel sacco a pelo. Come dicevo appunto, gli angeli fanno pochissima parte, aiutano Samuel Stern a volare fisicamente in questo portale, la cosa assurda è che nonostante sembra che Samuel Stern entri fisicamente in questo portale, e di conseguenza in legione, quantomeno nell'inferno dei demoni, pare comunque che sia connesso a livello semplicemente mentale. Quindi forse è tutto una metafora visiva, non lo so. La stessa scena quando legione gli mostra quello che sta succedendo a Duncan e lui ci piomba dentro per salvare Duncan, io mi aspettavo che fisicamente si teletrasportasse in Irlanda, invece no, è solo un contatto telepatico, e quindi da lì ho capito che la sua stessa presenza in legione non è fisica, ma è comunque un condotto mentale. Quindi non so se l'angelo si è limitato semplicemente a portarlo, avvicinarlo al portale e inzuppargli la testa nel portale, non lo so. Però fatto sta che pensavo fosse più fisica la cosa. Vengono spiegate due cose molto importanti con cui ci tengo a parlarne con voi. Finalmente ci sono gli eresiarchi che Samuel Stern stesso ha scacciato di nuovo in legione nei numeri scorsi, di cui appunto vedete anche un riferimento a pagina 24, che dicono a Samuel noi siamo legione, che è appunto la frase, una delle frasi più spaventose per qualche ragione che mi fa timore della Bibbia, del demone se non sbaglio, il demone che tenta Gesù nel deserto, nei 40 giorni nel deserto di Quaresima appunto, il demone che tenta Gesù dice di chiamarsi legione. E mentre in questo contesto narrativo il legione è il nome che si dà all'inferno dei demoni, qui ci fanno capire come legione è sì un luogo, ma è anche una presenza, una presenza intangibile tra le presenze, diciamo, dei demoni che ci sono finiti dentro. Tant'è che lo chiamano proprio anche, se non sbaglio, l'intangibile, il riferimento a Satana, quello che viene comunemente chiamato da noi come Satana, che vi ricordo vuol dire semplicemente avversario. Pare addirittura che i demoni stessi, che questi eresi archi, non siano della stessa squadra di Satana. Pare che Satana abbia un piano ben più cattivo rispetto agli eresi archi, che semplicemente si considerano loro stessi appunto dei figli degli uomini, proprio perché sono nati da essi, e semplicemente vogliono tornare sulla Terra e tornare a vivere con gli uomini per fuggire appunto da Satana, che presumo, vedremo più avanti, come nella mitologia cristiana classica, sarà un angelo caduto a questo punto. Ed è per questo che i demoni lo rifugiranno, perché hanno paura, timore di questo angelo essendo demoni, essendo che nella natura degli angeli è quella di far del male ai demoni. Però Samuel Stern dice a me non interessa che voi cerchiate di fuggire da Satana perché siete contro di lui e volete venire sulla Terra. Comunque venendo sulla Terra voi fate del male agli esseri umani e il mio compito è comunque aiutare gli esseri umani. Tenendo sempre presente anche che questa cosa che gli eresi archi hanno detto a Samuel potrebbe essere una bugia, perché il maggiore inganno del diavolo è fingere di non esistere. Però in questo contesto fanno capire che una delle maggiori armi del diavolo, di Satana, dell'avversario sia appunto la menzogna e quindi quello che hanno detto gli eresi archi a Samuel potrebbe tranquillamente essere una bugia per poter approdare sulla Terra. Tant'è che usano anche il mezzuccio sentimentale di fargli vedere cosa sta capitando a Padre Duncan o cosa potrebbe capitare nei due mesi a venire perché appunto il tempo funziona diversamente in legione. E in questo modo, con questo espediente narrativo riusciamo a vedere la trama A e la trama B. La trama A è quella di Samuel nel portale e la trama B è quella appunto di Padre Duncan che lotta per la sua anima. Vediamo il passato di Padre Duncan, vediamo tutto quello che già un po' sapevamo anche dalla storia dell'extra del 2021 che lui appunto era irlandese stava quasi per arruolarsi nell'ira all'esercito irlandese per combattere, per questa guerra di religione che c'è stata in Irlanda e all'ultimo ha deciso di non arruolarsi alcuni suoi amici invece lo hanno fatto e non gliel'hanno nemmeno detto quindi lui li aiutava senza sapere che erano parte dell'ira e quindi è stato anche allontanato diciamo dall'Irlanda per questo è andato in missione in Africa in Sudafrica dove per la prima volta incontra un posseduto e da lì si avvicina appunto all'esorcismo a questo mondo che noi tutti conosciamo. Padre Duncan dice a Samuel nel momento in cui si interconnettono di come ha voluto occuparsi del proprio demone personale con il metodo Samuel cioè cercando di andare all'origine della creazione di questo demone. qua per la prima volta viene detto dal fratello di Duncan che questi demoni nascono da un desiderio oscuro e profondo ma soprattutto represso. Non c'è perversione se non c'è la repressione. Non c'è la perdizione se non c'è la repressione. Quando dicono questo mi ha fatto capire anche molte cose di come le persone religiose religiose, le persone fanatiche se vogliamo vederle in questo modo vedono le persone che invece vivono liberamente la propria vita e come le condannino per questo non capendo che il loro vivere la vita in modo più libero non sia una perversione del loro modo retto di viverla ma sia semplicemente un altro modo di viverla. loro vedono questo modo come perverso perché per loro quello può essere soltanto un desiderio da reprimere ma è dalla repressione che nasce il demone. Ho parlato un po' per metafore non sono stato molto esplicito perché il video è già molto lungo magari ne faremo una live su Twitch se vorrete in cui sarà molto molto più esplicito quindi scrivetevi a Twitch così ne parliamo apertamente anche in chat. Comunque se volete un riassunto il concetto è questo la Chiesa Cattolica vede le persone che vivono la sessualità in modo libero come perverse perché sono perverse rispetto al loro modo di concepire l'amore ma ciò non significa che loro la vedano in questo modo per loro questo è l'amore non è una perversione di un amore più corretto questo è il concetto che hanno le persone che vivono secondo dei dogmi dei dettami molto rigidi che al giorno d'oggi non hanno tanto più senso di essere se non fosse che tu stesso li vuoi rispettare ma non per questo devi imporre agli altri che il tuo modo di vivere sia più giusto di quello di altre persone non nel 2021 forse vedono questo tipo di amore questo tipo di vita come una perversione dal loro modo di concepire l'esistenza proprio perché loro stessi nel profondo hanno comunque pensato a questa cosa ma per il loro modo di concepire l'esistenza questo è una deviazione dal loro modo di concepire l'esistenza è una perversione e quindi danno per scontato che sia una perversione anche per tutti gli altri e quindi la condannano ma non è assolutamente così come dice questa pagina la pagina 44 di Samuel Stern il demone nasce da un desiderio oscuro, profondo e represso è dalla repressione che nascono i demoni non ho mai sentito parlare di atti di pedofilia laddove ci sia amore libero c'è sempre stato un problema di pedofilia dove c'è la repressione dove manca la sessualità dove viene repressa la sessualità per vergogna per mancanza di materia prima quando si parla di famiglia di anziani o appunto per costrizioni o autocostrizioni date dai dogma religiosi chiusa parentesi padre Duncan credeva che avrebbe trovato l'origine della nascita del suo demone nella chiesa d'Irlanda dove appunto aveva deciso di prendere i voti per la prima volta ma così non è stato così Samuel lo aiuta a tornare appunto in Africa dove ha conosciuto il primo indemoniato ma anche lì pare non essere chiaro come sia nata questo suo desiderio represso io credo che per Duncan sia comunque una rabbia fondamentalmente che lui ha sempre cercato di reprimere con la fede con la rabbia della fede e che comunque è sfociata parecchie volte in violenza fisica che lui ha comunque cercato di veicolare positivamente aprendo la palestra per i ragazzi di strada eccetera però ecco credo che il demone interiore di Duncan anche se non è stato espresso apertamente sia proprio la sua rabbia contro il mondo forse in un certo senso la voglia di partecipare all'ire e di combattere è stata finalmente distrutta non vediamo una forma reale lui Duncan dà la forma a questo suo demone dello stereotipo di satana ma perché è una creazione di Duncan però non sappiamo cosa rappresenta davvero questo demone ciò nonostante con l'aiuto di Samuel Stern questi due questi due campi di battaglia vengono vinti quindi sia il portale che è stato chiuso ma come dice il sensitivo qualcosa è passato quindi vedremo qualcosa sicuramente nel prossimo arco narrativo sia dal punto di vista di Duncan che è riuscito a combattere la propria battaglia il tutto si conclude con questa fantastica tavola dove senza parlare si sono ritrovati a bere qualcosa al bar mi ha ricordato anche molto Dylan Dog e Block in questo contesto da pub e dove appunto pensano di iniziano un pochino a recuperare il dialogo che avevano perduto il tutto si conclude con un cliffhanger di una scena che non abbiamo bisogno di vedere con loro due che tornano a salvare la piccola Morgan la piccola ragazzina che Samuel Stern fondamentalmente aveva abbandonato nel numero scorso bene fatemi sapere voi che sensazioni vi ha dato questo numero che vibes vi ha fatto che corde vi ha toccato scrivetemelo qua sotto nei commenti ovviamente qualunque opinione diversa dalla mia se posta in modo educato è assolutamente accetta e siamo aperti al dialogo noi appunto se volete ci possiamo vedere su twitch per un approfondimento che seguendomi sugli altri social potremmo decidere insieme ecco l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video ecco l'inchino ecco l'inchino